La trasparenza negli enti pubblici è ancora una chimera. Dopo le norme anticorruzione entrate in vigore ad aprile, si fa fatica ad attuarle e si procede molto lentamente nel segno del peggiore dei mali, la lentocrazia. Il Ministero ha deciso di tenere sotto controllo la situazione, soprattutto in riferimento a quegli enti che non hanno reso i loro siti completamente accessibili. La pagella è consultabile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la piattaforma informatica Magellano, in grado di elaborare una lista dove, oltre ai buoni, ci sono anche i cattivi. Una sorta di blacklist nella quale, scorrendo la graduatoria, si scopre che molti enti non rendono accessibili informazioni considerate minime e che dovrebbero garantire maggiore trasparenza. Se prendiamo in considerazione gli enti locali, ovvero i comuni, scorrendo la classifica scopriamo che su 41 comuni della provincia di Bari soltanto 9 sono quelli che soddisfano i 65 indicatori di trasparenza. Maglia nera, assegnata a Cellammare, Binetto, Alberobello, Conversano, Corato, Grumo, Locorotondo, Molfetta, Poggiorsini, San Michele, Santeramo, Turi, Valenzano, Terlizzi, Trigiano. Promossi a pieni voti, Modugno, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Rutigliano, Toritto, Giovinazzo, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Tra le altre realtà, tenute sotto monitoraggio, c'è il Policlinico di Bari che insieme all'oncologico e al Politecnico finisce nella lista nera. Il problema non è nella presenza delle informazioni, quanto nella difficoltà di reperirle, evitando lunghe ed inutili code agli sportelli. E' questo il senso della normativa che fatica a trovare una rapida applicazione, sebbene per chi non si adegua sono previste sanzioni. Resta il dubbio di quando e come applicarle.